Musica Ed eccoci arrivati allo spazio che ogni giorno riserviamo al Bifest, al Bari International Film and TV Festival che si concluderà sabato 29. Oggi terza e ultima giornata con tante presenze, vedo già in postazione Rosi Coviello che ci fa vedere e ci fa conoscere alcune di queste presenze. Buongiorno a tutti. Sì, buongiorno Anna Maria, buongiorno ai telespettatori di Antenna Sud. Io sono qui nella sala Giuseppina con una coppia d'eccezione ma non soltanto nello spettacolo, anche nella vita privata, credetemi, perché sono stati a battibeccare fino ad ora. Poi di stupidaggine come si fa nella coppia quotidiana e sono, li avete riconosciuti sicuramente, Simona Izzo alla mia sinistra e Enrichi Tognazzi. Buon pomeriggio ad entrambi. Buon pomeriggio a voi. Per fortuna c'eri tu così non ci siamo dovuti a zuffare. Si parlava di caro figlio in realtà, si parlava di un autore pugliese, anzi barese proprio quindi stimato da entrambi. Enrichi diceva che io non avevo letto il suo libro e invece lui l'aveva letto, invece è il contrario. O comunque, insomma, abbiamo letto tutti e due il libro di caro figlio. Quindi stavano ricordando un po' gli autori pugliesi, anche perché si è parlato molto di Sud, di Bari, la cosa divertente. Allora ricordiamoli innanzitutto che loro sono qui per un film di cui Enrichi Tognazzi è regista e sua moglie, Simona Izzo, è sceneggiatrice, che si chiama Il padre e lo straniero. Tratto da un romanzo di un vostro polterraneo di Giancarlo De Cataldo. Ed è una cosa abbastanza, insomma, un film che vi ha messo un po' in discussione. Poi in realtà si pensa che sia soltanto un rapporto tra il papà e suo figlio che è affetto da handicap, ma poi viene fuori una storia tra uomini davvero importante, davvero particolare. È una storia di amicizia, che è un tema che abbiamo privilegiato già in passato, con film come Ultra, La Scorta, anche Canone Inverso. Però in quel caso erano sempre storie di amicizie e di ricerca di un padre. In Ultra erano dei ragazzi e lo sguardo, il punto di vista, era quello di un ragazzino che doveva scegliere tra questi due chi doveva essere il suo padre putativo. Nella Scorta invece il magistrato ha una figura paterna che poi lascerà i ragazzi finalmente maturi per la loro strada. In questo caso invece è una storia di padri e di come si diventa padri, perché se madri, diciamo così, è una cosa istintiva, biologica, molto naturale essere madri per una donna e invece diventare padri è più complicato, insomma, bisogna, però non c'è nessuno che te lo insegna. Invece i nostri due amici, diversi l'uno dall'altro, un padre italiano, un padre straniero arabo, si incontrano, nasce un'amicizia e il padre straniero insegnerà, diciamo così, ad essere un buon padre, ad Alessandro Gasman. Possiamo anche dirlo, lei l'ha annunciato, insomma, siamo soddisfatti, ha vinto anche un premio per la sceneggiatura, oltre che per miglior attore, anche per la sceneggiatura. La sceneggiatrice è lei, insomma, incassa. Comunque, comunque è incassato, voglio dire, rispetto a tutto quello che le combina il suo marito. Devo dire che dopo 25 anni, perché noi siamo insieme da 25 anni, credo che questo sia il 24esimo o il 25esimo film, raccontando naturalmente tutti i nostri film, perché noi siamo come Bibi e Bibò, li facciamo insieme, quindi quel che è mio è mio, quel che è suo, cioè quel che è no, quel che è mio è mio, quel che è suo è mio. E quindi siamo al 25esimo anno d'amore, abbiamo vinto anche un premio per la sceneggiatura, però la firma anche lui la sceneggiatura, quindi è condiviso insieme a Decataldo e a Graziano Diana, che è un nostro collaboratore storico. E siamo qui, nella terra, in una terra molto amara e aspra per me, ma molto amata, perché io ho perso un carissimo zio qui, che si chiama Zio Dino, vent'anni fa. Insomma, comunque ricordo un drammatico evento a Bari, però è una città che io amo follemente, oggi dicevo quando vengo qui e mi offrono un caffè, entro in un posto, sento un calore, sento l'accoglienza, sento che è una città che mi vuole. Mentre invece quando vado a Milano il caffè me lo tirano direttamente dal bancone e quindi io voglio vivere al sud, abbiamo comprato una casa in Sicilia, vorrei potermene comprare una in Puglia, insomma mi piace stare qua. Cioè voglio dire, non è che dobbiamo comprare una casa in ogni luogo che ti piace. Però un trullo sarebbe bello, un regalo a sua moglie, un trullo. Un trullo sarebbe bello, ti ringrazio per questa abilità brillante che sicuramente... Un trullo, appena girato in Puglia, una fiction che poi è stato un grande successo con Bianca Guaccio, che si intitola Mia madre, e quindi siamo stati a Cisternino, siamo stati... E quindi l'ha affascinata, possiamo dirlo. Ha detto, ma perché? Se ce l'hanno scamarce la colina non ci possiamo, eppure noi il trullo, ecco. Mi dispiace per lei, quindi in occasione di San Valentino, voglio dire, io lei suggerisco un bel regalo. Tanto a me i gioielli non mi interessano, quindi, no, niente, tutta roba vecchia, niente. E allora Rosi... Voglio le case, voglio le cose che rimangono. E allora Rosi, noi li aspettiamo perché tra l'altro la loro sintonia traspare tranquillamente e si vede. Allora, da su io sono dicendo che comunque la vostra sintonia traspare, si vede. E soprattutto loro sono... Te l'hanno anche anticipato e soprattutto noi li aspettiamo. Soprattutto loro sono amici del Bifest perché anche l'anno scorso sono stati ospiti da noi. Certo, anche l'anno scorso erano ospiti da noi, li ho intervistati anch'io. Ecco perché già sapevo, già conoscevo la loro sintonia e il loro andare d'accordo. Oltretutto, insomma, di questi tempi, dopo 25 anni, andare ancora d'accordo è difficile, no? E' una questione... Non andiamo solo in d'accordo, non andiamo tutto il giorno. Cioè tu devi sapere che stamattina io ho fatto una passeggiata in questo meraviglioso centro dove ci sono dei negozi meravigliosi e Enrici non ha fatto altro che dire io cosa devo fare? Il Labrador, cioè perché stava semplicemente fuori dalla porta, io ho detto no, invece di fare il Labrador, entra nel negozio con me e collabora. Io ho comprato un piumino, che è una roba utile per tutti e due. E invece vorrei fare il Labrador. Il piumino danese, comprato in Puglia, che si sa, che anche conviene, è conveniente. Il piumino danese lo trovo a Roma, però magari devo fare un sacco di chilometri. Qua sono uscita e l'ho trovato nel negozio. Vabbè, potrebbe servire d'inverno nel trullo. Aspetta, questa è mia madre che ci chiama in diretta. No, non lo so, aspetta, perché se mamma risponde... Scopriamolo chi è, insomma, se mamma. Rosi, intanto che scopriamo chi è al telefono della signora Izzo, io li saluterei, perché così riprendiamo la linea in questo studio e vediamo cosa succede. Quindi grazie a Ricchito Ignazzi, grazie a Simona Izzo per essere stati i nostri ospiti in diretta.